Musica Telespettatrice e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a Casa Rossini. Siamo qua anche oggi, mercoledì 24 febbraio, con una nuova puntata in diretta. Vedete l'orologio in sovrimpressione, così come vedete i nostri contatti, per mandarci messaggi, per mandarci foto, perché no, cominciano ad esserci delle belle giornate, potrebbe essere interessante mandarci foto dal vostro territorio, dal posto da dove ci seguite, 351 708 9977 oppure casarossini, chiocciolarossinitv.it, questi due numeri importanti e questi due riferimenti importanti anche per rispondere al sondaggio scherzoso, a metà strada tra scherzoso e serio che facciamo ogni giorno. Il sondaggio di oggi, che viene proposto anche nelle nostre pagine social Facebook e Instagram, è prosa o poesia. Dovete fare la vostra scelta, la vostra opzione. So che è una cosa difficile, io non saprei cosa scegliere. Diamo anche i risultati definitivi del sondaggio dell'altro ieri, tra Facebook e Instagram, abbiamo un 29% che opziona Facebook e un 71% che opziona Instagram. Oggi è il 24 febbraio, 55esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 310 giorni alla fine dell'anno e secondo il librone nostro personologi è il giorno del sacrificio. Non si celebra nessuna giornata in particolare ma la Chiesa Cattolica invece celebra Ethelbert, siamo dalle parti del 550 circa, è stato un sovrano anglosassone, re del Kent dal 580 e il vescovo Sant'Agostino l'ha convertito primo tra i principi inglesi alla fede di Cristo. L'evento storico che abbiamo scelto per il 24 febbraio è la vendita della decimiliardesima canzone nel 2010 nell'iTunes Store. Qui vedete una immagine suggestiva di Steve Jobs davanti alla videata di come si presentano le canzoni sull'iTunes. L'iTunes Store che fino al 12 settembre si chiamava iTunes Music Store è un negozio online, lo conoscono praticamente tutti, per la vendita di musica digitale. È stato lanciato il 28 aprile del 2003 in contemporanea con la versione 4 di iTunes. Il negozio è supportato da un catalogo ovviamente ricchissimo, 5 tra le maggiori case discografiche, BMG, EMI, Sony, Universal, Warner Bros. Include 300 etichette indipendenti, un repertorio di più di 43 milioni di canzoni. La ricorrenza di oggi fa riferimento appunto alla decimiliardesima canzone, 11 anni fa, che è stata Guess Things Happen That Way di Johnny Cash, scaricata da un tale, Louis Sulcher di Woodstock, di Georgia, in America, il quale ha vinto una carta regalo da 10 mila dollari. Questo è il titolo della canzone di Johnny Cash. L'ultimo dato che riporta Wikipedia in relazione alle vendite dell'ITU Store è del 28 maggio 2014, per cui è abbastanza vecchio, e indica 35 miliardi di canzoni vendute, niente male. Il pensiero del giorno, molte tragedie vengono inscenate nel nome dell'amore e con questo si conclude la prima parte, la primissima parte introduttiva della trasmissione, perché è tempo di dare il benvenuto al primo ospite. Fabio Masini, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a tutti i telespettatori. Allora, allora, lo chiamo, l'ho chiamato giustamente direttore, scopriremo dopo, ovviamente molti di voi vanno già a sbirciare sui nomi degli ospiti e sanno già, ma con Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini di Pesaro, noi parleremo sia del suo ruolo, della sua carica, ma parleremo anche di un po' di cose legate al mondo dello spettacolo. Con piacere. Ma prima non ci esimiamo dal dare un'occhiata introduttiva a questo gioco che facciamo sempre con il giorno di nascita. Fabio Masini è nato il 20 aprile, il giorno della sfida al mondo, niente male. I nati il 20 aprile hanno delle sviluppatissime doti di leadership, e allora ci siamo perfettamente, una forte spinta interiore dirige costantemente verso l'alto questi dinamici individui, orientandoli verso la realizzazione degli obiettivi successo e potere. Direi che è un'introduzione perfetta. Vediamo i nati del giorno. Ah, 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 vediamo. Torna, tutto torna. Tra i nati del giorno c'è Adolf Hitler. E vabbè, comunque ci sta nelle caratteristiche, direi. Jessica Lange, attrice straordinaria. John Miró, per cui chi vuole discutere il pittore spagnolo, Napoleone III. Poi ne aggiungevi uno? Ugo Tognazzi. Ugo Tognazzi, qui nel librone non me lo riporta, ma ci credo. Che forse è quello che mi rappresenta di più. Esatto, sicuramente più del primo ci siamo, insomma, perché se no. Tra i pregi potente, ispirato, entusiasmante, i difetti da molto tempo, come dico sempre, non li leggiamo più, perché davano sempre una sensazione. C'era sempre questa accettazione tipo, sì, sì, più o meno, però si vedeva, insomma, che non c'era, non c'era gioia, insomma. Ok, ok. Allora, Fabio, noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da prima e questo è un'abitudine, esatto, che sto spiegando ogni volta ai telespettatori perché qualcuno potrebbe anche dire, ma chi è? Perché lo tratti in maniera così confidenziale? Noi ci trattiamo confidenzialmente perché l'amicizia nasce, tra l'altro, in occasione di una cosa di cui parleremo. Esattamente. Ecco, allora, però facciamo le cose con ordine, è eletto direttore il 7 settembre, direttore del Conservatorio Rossini, insediato a novembre, naturalmente all'inizio dell'anno scolastico, precedentemente vice direttore, nominato dall'allora direttore Ludovico Bramanti e in realtà ancora prima dal 91 insegnante di elementi di composizione per la didattica della musica. Attualmente, naturalmente il corso è affidato a un altro insegnante perché la carica assorbe, assorbe tutte le energie. È totalizzante, diciamo. Allora, nato a Morciano di Romagna, attualmente abita a Saludeccio, insomma, un romagnolo alla guida di questa istituzione che più pesarese e marchigiana di così non si può. Sì, come sai bene, tuo padre mi ha sempre definito un marchignolo, perché sono proprio a cavallo tra le due regioni, ad ogni modo io mi sento ormai anche un figlio adottivo di questa città, di Pesaro, perché sono tanti anni che sono qua, che insegno e che ho l'onore di far parte di questa grande istituzione che è il Conservatorio Rossini, per cui mi sento un po' anche, diciamo, non solo romagnolo ma anche marchigiano. Fabio Marsini è anche titolare di un sito internet molto ricco, articolato e pieno di contenuti, nel quale si presenta come compositore, autore, direttore d'orchestra e promotore di eventi culturali. Noi oggi parleremo proprio di questo, di come questa attitudine si riverbera anche, si riverbererà inevitabilmente nella caratterizzazione del suo mandato. Certo, ti ringrazio per questa precisazione, perché il fatto di questa definizione anche di promotore di eventi culturali è un elemento che nella mia vita è stato fondamentale, perché quando facevo partire delle idee per costruire, per scrivere degli spettacoli, poi di conseguenza dovevo anche promuovermi lì, perché non avevo un agente che lo facesse al posto mio. E quindi nel tempo ho imparato quanto fosse importante anche questo aspetto, c'è l'aspetto organizzativo e divulgativo e la ricerca delle sponsorizzazioni per riuscire a mettere in piedi delle idee che tu hai. Quindi oggi vorrei mettere al servizio di questa grande istituzione che ovviamente ha dei contenuti importantissimi, quindi mettermi al servizio anche sotto questo profilo per cercare di portare fuori i nostri contenuti, perché noi abbiamo dei contenuti impressionanti, bellissimi, delle meraviglie. Ecco, e quindi questo aspetto sarà importante per la parte divulgativa. A questo proposito abbiamo concordato di vedere, per far capire e poi dopo commentiamo, un filmato. Questo filmato è realizzato proprio a inizio mandato perché era per Santa Cecilia. E' stata la mia prima uscita come produzione in termini di direttore conservatore di Pesaro. E devo dire che questa prima esperienza ci ha fatto capire che in questo periodo di pandemia, quindi con questa difficoltà di poter ospitare il pubblico, a fronte di un pubblico che avremmo potuto ospitare al massimo 500 persone al Pedrotti, voi sapete bene che in questo periodo non si può fare entrare pubblico. Abbiamo avuto nell'arco di 23 ore la bellezza di 12.000 visualizzazioni. Vediamone un pezzettino allora, aggiungiamo qualche visualizzazione anche noi di Rossini. Benissimo, grazie mille. Se all'inizio fu un dono, ora è il momento della restituzione. Ed il Conservatorio Rossini lo ha fatto attraverso i suoi giovani musicisti, con questo streaming musicale. Siamo felici di essere riusciti a realizzare questo impegno in un momento così difficile. Vogliamo ringraziare tutti voi che ci avete seguito e tutti coloro che hanno reso possibile quest'evento. I nostri studenti e docenti innanzitutto, il Comune di Pesaro, la Fondazione Rossini, i tecnici audio del Naive Recording Studio, quelli video di Alessandro Guccioni Studio e tutto il resto del personale che ha lavorato a questa diretta. Vorremmo congedarci con le parole tratte dal Cantico delle Creature di San Francesco, poeta, santo e patrono d'Italia, perché ci possano aiutare a riscoprire la bellezza e l'umanità, possano essere una luce in questo momento buio. Ci permettano di guardare l'uomo e la natura con occhi nuovi, immaginando e impegnandoci per un futuro migliore. Sii lodato, mio Signore, con tutte le Tue creature, specialmente Messer Fratello Sole, che è giorno e attraverso il quale ci illumini. Ed esso è bello, raggiante e con grande splendore. Esso simboleggia Te, Altissimo. Sii lodato, o mio Signore, per sorella Luna e le stelle, le hai create in cielo, chiare, preziose e belle. Sii lodato, o mio Signore, per fratello vento e per l'aria serena e nuvolosa e ogni tempo, grazie al quale dai il nutrimento alle Tue creature. Sii lodato, o mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile, umile, preziosa e pura. Sii lodato, o mio Signore, per fratello fuoco, grazie al quale illumini la notte. Ed esso è bello, è gioioso, vigoroso e forte. Sii lodato, o mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, che ci sostiene e nutre e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Ecco, questa è la parte non musicale del video, in realtà siamo riusciti a trovare il pezzo nel quale, con i tuoi testi se non sbaglio, si spiega un po' il teatro Rossini. Sì, questo è il finale di questo concerto, dove praticamente è stato inserito anche questo cantico delle creature di San Francesco, proprio perché in questo momento, come dire, era un segnale della riscoperta, della bellezza che abbiamo attorno e che magari tutti noi, chiusi in casa in questi lunghi mesi, abbiamo riscoperto quanta bellezza ci sia. E si collegava alla prima parte, che non so se poi dopo avremo modo di vedere. Adesso sentiremo in regia, che è quella invece proprio dove noi stessi ci dobbiamo rendere conto che la meraviglia spesso ce l'abbiamo in casa o sotto casa e bisogna saperla vedere e riscoprire perché non sempre, essendo abituati a vederla tutti i giorni, non sempre siamo attenti, siamo vigili. Certo, certo. Tra l'altro poi c'è questo discorso legato poi anche alla parte tecnica. La differenza tra tutto quello che comunque viene proposto, è stato proposto nei secoli da scuole di musica in forma di saggi, in forma di spettacoli, di rappresentazioni. In qualche modo, se vogliamo, ne parlavamo anche l'altro ieri con l'assessore Vimini, la pandemia ci ha insegnato a testimoniarlo in forma anche fruibile, senza essere presenti come pubblico. Cioè, inevitabilmente c'è stata per un periodo la necessità di far arrivare queste cose al pubblico a casa perché era impossibile, ed è ancora impossibile, andare in teatro. L'auspicio è che questo diventi un'abitudine, in qualche modo, non nel tentativo di dire alla gente restate a casa, non venite più in teatro, ma nel tentativo di aggiungere persone, aggiungere pubblico, aggiungere, diciamo, destinatari. In più, c'è un altro aspetto importantissimo, che è quello della documentazione e testimonianza, che non è più semplicemente un omesso, una telecamera, un microfonino lì, in modo che comunque questa roba non va buttata via, ma è un archivio di produzione di altissimo livello. Questa è la mira, se non sbaglio. Sì, sì, esatto. Cioè, questa cosa qua ci ha fatto riscoprire in un momento così difficile che si poteva continuare a tenere un contatto, a far volare la musica attraverso questo simbolo, questo aeroplanino di carta che c'è proprio nel logo del primo concerto di Santa Cecilia, che rappresentava questo aeroplanino di carta e il fatto che, visto che non ci possiamo vedere, arriviamo noi con questo aeroplano di carta, basta che tu apri la tua finestra e entreremo con la musica a casa tua. Quindi questo è stato un gesto bello e poetico che poi abbiamo visto che funziona, perché ha raggiunto tantissime persone. Mi dice Allegra, che stavo guardando mentre ascoltavo te, che adesso possiamo vedere quel frammento. Allora proviamo a vederlo, perché mi piace che queste cose che ci diciamo vengono capite anche dopo aver visto a cosa ci stiamo riferendo. Certo, certo. Proprio pochi secondi. Con piacere. Pochi secondi. Certo. All'inizio fu un dono di Rossini, poi si rivelò una fortuna. Gioacchino volle questa scuola di musica nella propria città natale. Lasciò tutti i suoi averi perché la si realizzasse per i giovani e per tutti quelli che la amano. Oggi, nel mondo, Pesaro è la città di Rossini e grazie a lui è anche diventata città della musica UNESCO. Palazzo Livieri, edificio settecentesco, è la sede storica del Conservatorio Rossini ed è a tutti gli effetti una grande nave che racchiude un'infinità di meraviglie. Un grande scrigno con strumenti antichi, moderni e anche tecnologici. Pianoforti, arpe, contrabbassi, una biblioteca con prestigiose partiture, numerose sale affrescate, una sala ambisonica all'avanguardia e spazi per la musica jazz. Ci si perde, in uno stupore tipico delle fiabe. In questo giorno speciale di Santa Cecilia, patrona di tutti i musicisti, entriamo nello strepitoso Auditorium Pedrotti. Una sala da concerto, ideata e voluta dal primo illustre direttore, di cui porta il nome. In un momento difficile come questo, con una pandemia mondiale, sarebbe bello immaginare di poter ascoltare l'orchestra del Conservatorio e farla entrare nelle case di tutti, come trasportata da un piccolo aereo di carta. Un segno di speranza e di futuro per tutti noi. Grazie. 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 Ecco, questo era quello che volevamo far vedere. C'è questo taglio molto televisivo nella realizzazione di quella che nella tradizione dovrebbe e doveva essere semplicemente una documentazione. Qua si fa un salto qualitativo notevole, si passa a trasformare questi, che possono essere saggi, che possono essere qualunque forma di proposta, in veri e propri spettacoli. Esattamente, infatti questo taglio è il taglio che noi vorremmo dare alle nostre grandi produzioni e la cosa che emerge sono queste due cose che si sono dette all'inizio, che sono per l'appunto il fatto che Rossini fece un grande dono a questa città e che poi si rivelò una fortuna. Grazie a questa fortuna oggi Pesaro è famoso nel mondo per Rossini ed è anche città unesco della musica. Quindi questi valori che si moltiplicano sono grazie a questa generosità di questo personaggio che muore a Parigi ma che pensa a Pesaro. E poi ci sono i giovani, Rossini pensa sempre ai giovani perché nel suo testamento indice per i parigini un concorso francese per la scrittura di un'area musicale, concorso che faremo noi in Italia, cercheremo di appropriarsene visto che credo non sia mai stato realizzato. Era bella questa cosa che dicevi prima, lui ha pensato a due cose separate dei suoi lasciti, a Pesaro la creazione del conservatorio per istruire, insegnare, formare i giovani, a Parigi un concorso invece, come mai aveva pensato a queste due separazioni nette? Ma guarda, io penso che abbia pensato a questo, intanto l'amore per la sua città natale alla quale voleva dare un regalo molto consistente che era per il futuro, siccome la musica aveva cambiato la sua vita, pensava che facendo una scuola di musica a Pesaro sicuramente avrebbe cambiato la vita di molti giovani in futuro e credo che ci sia riuscito. Poi a Parigi, che era chiaramente la capitale europea della cultura in quel periodo, aveva lasciato questo concorso per la scrittura sia letteraria che musicale di un'area musicale per voce e orchestra. Questo suo testamento più di composizione legato più a Parigi era perché sicuramente all'epoca Pesaro forse non era così ancora avanti sotto un profilo, oggi Pesaro è prontissima ad affrontare un concorso del genere. Diciamo che a Pesaro costruiva una tradizione, a Parigi in qualche modo si autocelebrava con un premio. Sì, che poi non era neanche un autocelebrarsi perché chi si voleva autocelebrare avrebbe richiesto di eseguire le proprie musiche, lui invece di scriverne delle altre. Quindi è un futuro, cioè è un regalo sul futuro e per i giovani. E a questo punto invece con il tuo mandato lo prendiamo. Lo faremo noi a Pesaro perché ora credo che ci siano i tempi per farlo e anche perché i giovani sanno che Rossini ha pensato a loro. Il lascito di Rossini ha funzionato, ha creato il terreno. Volevo aggiungere, che tra l'altro è una cosa che riguarda anche noi di Rossini TV, appunto che domenica ci sarà appunto questo auguri Rossini per l'inaugurazione dell'anno accademico con lo streaming del Teatro Rossini e orchestra e cantanti del Conservatorio, con la partecipazione appunto dei cantanti del ROF. Sì, è una collaborazione tra il Conservatorio Rossini e il Rossini Opera Festival. Io ringrazio anche il maestro Palassio per questa collaborazione. E chiaramente con tutto quello che poi è il patrocinio e la collaborazione di tutti gli altri attori che ormai a Pesaro fanno squadra sotto questo profilo, quindi l'assessorato alla cultura, alla bellezza, alla fondazione Rossini, AMAT per i teatri, insomma tutti quanti insieme facciamo squadra quando arriva il momento di fare i grandi auguri al grande maestro. Quindi quest'anno abbiamo detto auguri Rossini perché noi sappiamo benissimo che essendo nato in un anno bisestile, a volte si scrive compleanno, non compleanno, eccetera, abbiamo sintetizzato facendo gli auguri. Esatto, e non si sbaglia. E l'assessore Vimi l'altro giorno diceva che questa collaborazione non è poi così scontata, e invece finalmente si concretizza e si realizza in questo momento importante. Sì, devo dire che già nel precedente mandato, quindi quello diretto dal maestro Bramanti, si era aperta questa collaborazione importante dove noi abbiamo avuto degli omaggi anche dal maestro Zed che è venuto a dirigere anche da noi in conservatorio. E questo omaggio è proseguito anche attraverso il maestro Palassio che è venuto a fare una lezione ai nostri ragazzi sulla professione del cantante. Quindi questo rapporto di amicizia e di collaborazione, perché come dicevi tu Paolo, il fatto che domenica i nostri cantanti canteranno con la Gianfaldoni e con Adaini, che sono due cantanti professionisti della Rossini Opera Festival, vuol dire ancora di più una capacità di preparazione e formazione di lavoro sul campo, quindi facendo cose insieme. Quindi questo credo sia un grande messaggio. Esatto, molto molto importante. Allora, quando ci siamo sentiti al telefono, avevamo riempito questa nostra chiacchierata come se dovesse durare un'ora. In realtà il tempo corre, ma abbiamo ancora qualche minuto per accennare a questa realizzazione e allestimento di opere, di tue opere, di opere della tua creatività e creazione, come Kirchhoff Opera e come quella a cui io sono particolarmente legato, e qui chiariamo perché abbiamo questo tono confidenziale, ci conosciamo da ormai più di cinque anni, San Fil de Luce, questa opera particolare che tu hai in qualche modo fatto nascere dalla lettura delle poesie di mio padre Carlo. Sì, allora è così, io e Carlo siamo amici, siamo diventati amici per una casualità, un amico comune che è Giorgio Andreani. Dopo da lì, da quel momento, abbiamo cominciato a frequentarci. Allora, siccome Carlo aveva visto lo spettacolo di Kirchhoff, mi disse, ma sai Fabio, sarebbe bello infarcirlo con dei testi, delle parti letterari, eccetera. Io, siccome questa cosa invece facevo fatica a immaginarla, a vederla, e avevo avuto modo di leggere le poesie della raccolta San Fil de Luce di Carlo, ho detto, guarda Carlo, secondo me sarebbe più interessante e più bello provare a fare una serata di poesia e musica dialettale. Poesie dialettali di Carlo, uno potrebbe pensare che sono delle poesie così, di un livello, invece, è un microcosmo questo libretto dove vengono trattati i grandi temi universali e sono i temi che riguardano l'esistenza di ciascuno di noi, l'amore, il dolore, quindi credo che quel libro desse la possibilità di fare tanta musica e di lavorarlo. E questo spettacolo, che era uno spettacolo importante, perché è nato per voce, coro e orchestra e aveva preso in esame, mi sembra, nove poesie, ma poteva benissimo essere ancora continuato e credo che rappresenti la città in maniera molto bella, perché Carlo sappiamo tutti che è un po' l'anima e un po' le ride universali del Pasqualone e del Prosecutore. Io ho una memoria molto netta del giorno che ci hai chiamato in conservatorio per dirci, volevo farvi sentire qualcosa, no? E in questo pianoforte da, come posso dire, da esercitazione, no? Credo, immagino che sia sempre di grande qualità, perché immagino che gli strumenti e i conservatori siano tutti perfetti, però diciamo non è quello da sala, no? Da concerto. Da concerto. Ci hai fatto sentire questi accenni con un entusiasmo che a me mi ha smosso qualcosa di importante, perché c'era proprio questa attenzione, questa emozione che arrivava, non con l'idea precostituita di mettere della musica sotto delle poesie, ma con l'idea di creare musica dalle emozioni che le poesie ti avevano suscitate. Esattamente, esattamente. Il lavoro che fu fatto fu proprio questo, quello di cercare di entrare dentro alle emozioni che le poesie stesse scaturivano, non era semplicemente mettere delle note alle parole. Ecco, e questa cosa credo che si sia sentita perché, insomma, ci fu una moltiplicazione delle emozioni attraverso la musica di quelle cose che erano già dentro le parole di Carlo. Guarda, naturalmente una cosa del genere fa subito pensare, quando si può rifare, eccetera, ma è un po' il tema. Kirchhoff è stata proposta, altre tue opere sono state proposte. Il problema poi è sempre, quando si fanno cose importanti, trovare l'opportunità di proporle e di realizzarle. In chiusura non è che ti voglia strappare una promessa, perché Carlo ci sta guardando sicuramente e si sta emozionando. Allora io lo saluto da qua, un abbraccio ideale dalla televisione. Esatto, anche dalla televisione, però quello che volevo dire è questo. C'è spazio per cercare di mettere in piedi, indipendentemente dalla situazione che abbiamo appena raccontato di Sonfield e Luce, ma parliamo anche di Kirchhoff, parliamo di tutto quello che può nascere e scaturire anche da qui in avanti. C'è ancora spazio per riuscire a impostare? Ci sta dentro il tuo mandato? Il tuo mandato come direttore, che abbiamo capito si caratterizzerà anche per questo impegno a realizzare produzioni di alto livello, ha uno spazio e ha un senso in questa direzione? Allora, guarda, rispondo in questa maniera che rende meglio ancora il concetto. Allora, io credo che quando si produce qualcosa, quando si prepara un materiale, il materiale per quanto mi riguarda dovrebbe essere sempre replicato. A me fa un po' dispiacere l'idea che ci possa essere un lavoro che richiede un paio d'anni di scrittura e che poi venga eseguito una volta. Oggi ovviamente va da sé che io, essendo il direttore conservatorio di Rossini, del conservatorio Rossini, non mi permetterei mai di proporlo all'interno del conservatorio Rossini perché potrebbe proprio apparire, no? Se la canta e se la suona, no? Esatto, un utilizzo improprio. Ma credo che tutti gli spettacoli che richiedono una lavorazione debbano trovare le formule per essere replicate e quindi per mettere in pratica la musica per i giovani, per tutti quanti perché è inutile produrre materiali che hanno solo un'uscita perché questo chiaramente anche in termini di carattere economico non funziona. Cioè bisognerebbe, come Rossini scriveva spettacoli che dovevano essere replicati il più possibile in tutta Europa, noi dovremmo cercare di impegnarci a scrivere una musica che possa sempre essere replicata. Quindi io sarò molto attento e felice di poter trovare i contesti chiaramente al di fuori del conservatorio per poter replicare questa bellissima cosa a Simacarlo. E poi questo tra l'altro ci riporta a chiudere con quello con cui avevamo iniziato. Cioè tutto quanto finalmente con un occhio speciale alla documentazione di altissima qualità, documentazione video e audio. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di musica per cui video e audio di grande qualità come quella che stai proponendo e che vedremo anche rappresentata. Anche il 28, anzi vi invitiamo a collegarvi tutti quanti alle ore 17 sul Facebook sia del Conservatorio che del ROF per partecipare a questo grande concerto sinfonico lirico con la nostra orchestra, con i cantanti nostri, i cantanti del ROF e sarà una grande festa in un momento purtroppo ancora difficile. Ci saremo anche noi naturalmente di Rossini TV. Grazie mille. Allora ringraziamo Fabio Masini siamo riusciti quasi a dire tutto quello che volevamo ma naturalmente come dico sempre Casa Rossini procede, va avanti per cui può darsi anche che capiti l'occasione di rivedersi. Benissimo, grazie a tutti e grazie a tutti voi per l'ospitalità. Perfetto, adesso andiamo in pubblicità oltre a pubblicità non devo dire niente per cui andiamo in pubblicità poi torniamo con Roberto Bartolini e l'indagine grafologica di un sacco di pezzettini e frammenti che ci avete mandato. Restate con noi. Eccoci, allora preannunciato da ormai più di una settimana ma anche di più, anche una decina di giorni finalmente siamo a questo appuntamento con Roberto Bartolini ciao Roberto, ciao, ciao, ciao mi raccomando il microfono allora perché preannunciato? Perché dopo il primo nostro incontro poi naturalmente faremo un riassuntino per dire chi sei dopo il primo nostro incontro che era dei primi di febbraio sì, primi di febbraio c'era venuta questa voglia allora Roberto, Roberto Bartolini nato il 13 marzo dei pesci col nome che significa splendente di gloria da LinkedIn risulta essere consular coach, formatore, grafologo con questa prima missione benessere della persona vado sintetico perché ne abbiamo già parlato lavorare sulla consapevolezza di sé eccetera appunto in questa puntata precedente del 3 febbraio ci siamo tutti appassionati a questa idea che nel gesto dello scrivere che il gesto dello scrivere fosse uno dei gesti più sinceri che l'essere umano può fare questa era un po' la cosa a cui eravamo arrivati a fine puntata cioè non si mente scrivendo né a se stessi né a chi ha l'abilità di indagare quello che noi abbiamo scritto non tanto nei contenuti di quello che scriviamo ma nella forma e questo è il vero miracolo sì, allora mi piace molto la definizione che hai dato diciamo che non si mente fin tanto che la scrittura è spontanea nel momento stesso in cui io cerco cerco o tento di alterare come capita ad esempio quando qualcuno dissimula la scrittura o la firma di un'altra persona o addirittura la propria e questo fa parte della grafologia peritale lì è chiaro che ci sono comunque nonostante si provi a dissimulare la scrittura propria di qualcun altro rimangono proprio quegli indici che rappresentano un po' l'impronta grafica che è specifica della persona che cosa si guarda di una scrittura? allora cosa fa un grafologo quando... perché questo ci scherzavamo ieri col turbante infatti non sapevo se presentarmi con un turbante quello che è importante far capire è questo il grafologo riceve un breve testo scritto più spontaneamente possibile per cui meglio sarebbe addirittura andare a recuperare una cosa già scritta precedentemente senza pensare di sottoporla a indagine questo potrebbe essere la chiave comunque un testo e non è che si mette lì e cerca di intuire facendo elucubrazioni mentali e rifacendosi magari a formule magiche interpreta esattamente quello che gli arriva da anni di studi e interpreta questi segni dove interpretare vuol dire proprio come posso dire capire esattamente a cosa corrispondono per cui non è un'interpretazione fantasiosa generica magica o cose del genere poi c'è anche forse un'aggiunta che entra nella parte della conoscenza che si ha e che appunto con la tua esperienza tu puoi avere dell'essere umano però diciamo che i primi segnali arrivano molto chiari per te e per voi che fate questo mestiere allora diciamo questo diciamo che la tecnica che si apprende all'università o un corso triennale o in una scuola di grafologia ti dà ti dà proprio gli strumenti ok in realtà quando noi ci posizioniamo dinanzi ad una scrittura la questione è un po' più complessa perché ad esempio io i primi tempi ho dovuto combattere anche con questo fatto che c'erano delle scritture che mi erano simpatiche e altre no quindi diventa come dire un colloquio che comincia nel momento in cui ti arriva una serie di saggi grafici io ad esempio ne chiedo non solo come giustamente dicevi tu uno attuale ma laddove fosse possibile magari scritture diverse nel tempo scritture diverse nel tempo perché in questo modo ho l'opportunità di vedere un po' quello che è stato il percorso della persona perché è chiaro che io oggi mi sento e sono in un certo modo già domani sono tranquillamente in un modo diverso perché nel frattempo c'è stata una giornata vissuta una giornata vissuta che è stata una coronata di incontri questi incontri mi hanno suscitato delle emozioni possono essere state piacevoli o spiacevoli e tutto questo essendo che va ad impattare con la memoria della persona e quindi va nell'inconso e automaticamente nello scritto viene il proposto quindi è come dire un colloquio in cui si ha anche la possibilità è una possibilità reale per il grafologo di potersi guardare di poter guardare le parti di sé che magari sono un po' scomode no tendenzialmente non so io ricordo che agli inizi facevo caso che le scritture che mi erano meno simpatiche erano poi le scritture che fondamentalmente mi riguardavano quindi c'è sempre questa possibilità di crescere e per questo che dico che per poter affrontare questo lavoro in maniera serena bisogna essere molto umili perché la prima tendenza è quella di andare a guardare quello che non va ed è una tendenza molto umana perché questo diventa quasi un po' rassicurante no quindi su questo si ha veramente la possibilità di fare un percorso anche su di sé perché diventano un po' tutta una serie di specchi con i quali noi ci dobbiamo un po' confrontare e la prima cosa che si fa appunto è stabilire questo colloquio quindi la scrittura la guardi e poi la lasci lì e poi la riprendi e magari emerge qualcosa di nuovo e poi anni e anni di misurazioni quindi riello goniometro eccetera 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 perché perché appunto noi non guardiamo solamente la forma ma guardiamo anche il movimento che è all'interno della forma no? prima nasce il movimento il movimento che poi viene strutturato in una forma e una forma che tra altre cose dovrebbe essere convenzionale perché non so quando si studiava calligrafia ad esempio no? uno dice ok lì allora i segni erano tutti uguali no in realtà c'è sempre questa impronta personale del proprio DNA che racchiude non solo quello che si è allo stato attuale ma anche il percorso che c'è stato prima per poter diventare quello che siamo oggi quindi è una storia veramente molto interessante c'è una persona che ti chiede di fare un'indagine grafologica ti regala un pezzo di vita per questo che è uno strumento molto potente e in quanto molto potente va trattato veramente con con estrema cura con estrema con estremo rispetto estrema sensibilità si fa presto a dire sì questa persona è così questa persona è così a parte il fatto che io non condivido proprio l'idea che qualcuno si azzardi a dire chi sono chi non sono certo no? quello che possiamo dire è che al momento emergono quello che emerge è questo come dicevo anche l'altra volta noi possiamo fare una fotografia dello stato attuale quindi vedere lo status quo della di quello che ci dice la scrittura ma in realtà possiamo fare anche un'analisi un po' più approfondita cioè andare un po' a cogliere quello che è stata l'esperienza del vissuto che ti ha condotto a strutturarti in un modo piuttosto che in un altro quindi massimo massimo rispetto sempre e comunque allora ovviamente ascoltandoti mi sono venute 30 domande però non te le faccio mi limito perché altrimenti non riusciamo no non riusciamo a fare quello che abbiamo promesso ai nostri telespettatori perché noi abbiamo promesso ai nostri telespettatori che avremmo cominciato a far vedere in senso pratico che cosa vuol dire andare ad indagare in maniera in senso buono come ha appena detto Roberto su un piccolo testo un piccolo testo proposto e allora ci siamo fatti mandare dai telespettatori alcuni testi sono stati diciamo sottoposti qualche giorno fa appunto a Roberto che li ha sistemati adesso teoricamente vediamo se funziona tutto noi abbiamo tu hai i fogli in mano ma noi abbiamo la possibilità in regia di far vedere l'immagine in modo che ecco da casa possano capire di cosa stai parlando mentre ci racconti questi primi quattro frammenti poi vedremo se riusciremo anche a parlare degli altri oppure li rinviamo a una prossima volta sì allora diciamo che qui abbiamo fatto di necessità virtù nel senso che normalmente il modo di procedere è diverso ad esempio qui le scritture sono state inviate con una foto scattata probabilmente da un cellulare quindi l'angolazione alcune caratteristiche indubbiamente un po' si perdono tipo la pressione che è uno degli elementi diciamo che reggono un po' la struttura della personalità perché ci dice ci dà informazione sul tipo di energia che una persona ha e qua un po' lo perdiamo io in questo caso comincerei proprio con il dire che cosa guarda un grafologo il primo colpo d'occhio è legato proprio a come la scrittura è organizzata sul foglio no? perché già se noi partiamo dal presupposto che ci comportiamo nella vita così come ci comportiamo nel foglio ok? questa cosa ti fa un po' sorridere mi dici delle cose bellissime perché chiaramente mi immagino se uno scrive magari leggero leggero e non vuole sporcare quasi il foglio è uno che vive nella vita in maniera quasi nascosta senza voler interagire questa è la prima roba che mi viene in mente ma poi no è proprio centrato il punto è proprio centrato il punto nel senso che effettivamente considerando il foglio bianco lo spazio scrittorio in termini simbolici corrisponde proprio allo spazio vitale con cui noi siamo abituati a doverci confrontare e noi siamo soggetti a tutta una serie di sollecitazioni quando scriviamo che possiamo considerarle proprio come magneti ad esempio in margine alto basso sinistra destra in termini simbolici si è visto che ha delle grosse enormi correlazioni con proprio quello che noi normalmente anche collochiamo verso l'alto quindi l'immaginazione la spiritualità la creatività ma anche il superio se vogliamo stare un po' in un parallelo con la psicanalisi ad esempio superio questo occhio che guarda quello che giudica no? ok verso il basso tutto il mondo degli istinti il sogno i bisogni primari ecco ad esempio una persona che non ha le aste sufficientemente profuse verso il basso ma magari ce l'ha più verso l'alto pensiamo alla F no? la lettra F se la parte bassa è poco estesa rispetto alla parte alta questo ci dice che c'è una idealizzazione perché va più verso il mondo degli ideali rispetto invece al contatto con i propri bisogni con le proprie necessità che può creare qualche difficoltà poi nel momento in cui deve andare a capire deve stabilire un po' dove si vuole proiettare anche in un mondo professionale no? certo perché fa fatica a contattare i suoi bisogni adesso questo mi raccomando cioè queste sono informazioni generiche tendenzialmente non amo molto questo modo però ho visto che può essere interessante anche per i telespettatori capire come funziona la grafologia che non è una gestione di magia non fate autoindagine su queste due cose che ha detto e soprattutto non ve le rivendete vi prego quando leggete la lettera di qualcuno non è che dice adesso ho capito tutto esattamente ho visto la televisione è un po' quello che succedeva a me nei primi anni in università che a quella povera moglie l'ho tormentata sai benissimo ormai perché diciamo che anche se alla seconda sei già un abitué il tempo corre veloce andiamo subito alle scritture andiamo a dare una cosa la cosa simpatica le prime tre scritture di questo foglio le ho messe assieme sul criterio dell'età noi abbiamo tre ragazzi di 23 anni che già a colpo d'occhio senza dover necessariamente essere un grafologo vediamo che ha lo scritto è stato strutturato organizzato in maniera completamente diversa abbiamo la prima scrittura donna di 23 anni che è molto vedete anche tutti gli schemi perché poi un grafologo guarda tutto chiaramente tutti gli schemi che sono stati che riporta proprio lo scritto ci dice che siamo in presenza di una sicuramente mente molto organizzata che ha bisogno di chiarezza che ha bisogno di sintesi e rispetto invece alla seconda scrittura che vediamo che ha un andamento come dire più rigoroso un po' più preciso vedete anche come la gestione dello spazio è molto meno è più serrato no? tutta la riga dall'inizio alla fine è molto attenta anche a non andare a fare in modo che la scrittura del rigo superiore non invada vedo i fori del foglio a destra per cui la riga è usata tutta tutta un taglio per inquadrarlo nel foglio che hai fatto tu per immagini insomma assolutamente e vedete che c'è anche proprio questa rigore guardate come fa l'em ad esempio prima seconda terza quarta riga similarità più o meno al centro del foglio vedete questa modalità che viene chiamata ad arco ci dice che è una ragazza sicuramente che ha molto rigore una ragazza che è molto tenace una ragazza che ha fatto del metodo della precisione un po' uno stile di vita no? questo ha se da un lato ha tutta una serie di vantaggi dall'altra parte indubbiamente rischia di diventare un po' costrittivo un po' soffocante rispetto alla terza ragazza sempre 23 anni che invece vedete calibro molto alto questa espansione volendo mantenersi nella categoria del calibro che ci dice appunto come io espando la mia energia nello spazio vitale già qua abbiamo delle informazioni che ci come dire introducono ad un modo di percepirsi completamente diverso mentre nel terzo caso ad esempio c'è questa estroversione legata proprio a questa sensazione interiore che si ha di voler lasciare un segno comunque nella realtà circostante la questione è ben diversa quando noi la andiamo a rapportare con la prima scrittura dove il calibro è sicuramente più piccolo anche se gestito in un modo molto fluido perché è una scrittura che scorre è quasi didascalico rispetto alle immagini e agli spazi occupati esattamente come se fossero delle spiegazioni esattamente quindi tan 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 molto chiara e non è un caso che il calibro appunto si 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 è portati a farlo riferire a due concetti fondamentali che aveva introdotto Jung nel 1921 cioè introversione e destroversione macro categorie che da soli non dicono nulla cioè il calibro come indicazione come categoria ci dice che un calibro alto tendenzialmente c'è un'alta autostima calibro piccolo tendenzialmente c'è un'autostima un po' meno esplosiva questo non significa che la persona sia meno sicura di sé però perché dipende da come organizzata mi viene da chiederti una cosa sulla quale poi ai me dobbiamo chiudere che è riferita alla terza la terza il terzo esempio scrive stampatello questa cosa che rilevo un po' tra l'altro anche me stesso ha un significato anche dal punto di vista grafologico o è solo qualcosa che ha a che fare con la perdita di abitudine a scrivere in corsico questa è una gran bella domanda che ci vorrebbero tre puntate solo per questo allora diciamo molto sinteticamente questo la riforma è sì basta finita allora ha a che fare entrambe le cose nel senso che oggi per tutta una serie di ragioni che adesso non abbiamo tempo di rappresentare si scrive in modo stampato perché è quello più comodo oggi le scuole sono piene di ragazzini disgrafici questo perché non vengono fatti sufficienti esercizi durante il percorso della scuola materna che abituano la mano ai vari collegamenti a tracciare le lettere dall'altra parte si scrive sempre di più con il computer e quindi si ha una minore abitudine e allora anche su sollecitazione delle varie maestre ahimè spesso i bambini vengono invitati a scrivere stampato perché riescono a leggere meglio quindi c'è tutta una anche qua polemica tendenzialmente tutto quello che viene un po' alterato da quella che è la spontaneità del corsivo è un modo di mettere una rete una griglia ma oggi come oggi onestamente io credo che sia più che altro dovuto a sì a questo passaggio della digitalizzazione assolutamente senti io lo sapevo che andava a finire così la risposta è perfetta è passato il tempo no ti prego ci siamo ci siamo guarda ti do ma perché lo rubiamo poi a Raffaella che non so se è qui o se è di là rubiamo un minuto a Raffaella ti do un minuto ma chiaramente a questo punto prima di darti il minuto dico questo allora io lo sapevo che andava così perché la cosa è molto interessante sono molto contento comunque della direzione che stiamo prendendo perché mi piacerebbe che questo diventasse un appuntamento periodico però chiediamo a casa se siete d'accordo per cui fateci sapere utilizzando i nostri contatti se vi piace e vi può piacere interessare l'idea che l'appuntamento con Roberto Bartolini diventi periodico perché a me sembra un appuntamento straordinario nel quale ne impareremo e ne scopriremo delle belle nel quale l'interazione col pubblico a casa sarà elemento fondamentale ultimo minuto dai cosa ci vuoi allora l'ultimo minuto quello che volevo dire appunto che su questo concetto di introverso ed estroverso nel primo caso adesso ecco nella prima scrittura indubbiamente abbiamo un'autostima molto equilibrata possiamo dire no perché al di là del calibro che è abbastanza contenuto questo ci dice che siamo dinanzi ad una persona che ama in un certo quel modo approfondire le questioni ma lo fa in maniera molto direi equilibrata no equilibra laddove per equilibrio intendo che non sfocia nella minuziosità certo no quindi c'è comunque respiro nella seconda scrittura già la questione diventa leggermente più complessa anche se il calibro viene definito come calibro medio perché si posiziona in un'altezza 3 2 3 mm ok l'unica roba è che essendoci molta attenzione alla forma la spontaneità viene un po' meno nella terza scrittura c'è appunto questa necessità di espandersi di prendere spazio ma questo non significa che si è sentita da ansie quindi il concetto di autostima va sempre rapportato a quello che ci dice l'organizzazione grafica e non semplicemente come uno slogan da poter usare o categorie per dire a quello va bene quell'altro non va bene assolutamente no ok allora ce l'abbiamo quasi fatta ricordiamo che per trovare Roberto lo trovate allo studio counseling grafologico in Viale Cialdini 11 a Pesaro lo vogliamo ricordare ma che adesso ci organizziamo con Allegra già quasi da subito perché vogliamo fissare un appuntamento per le prime settimane di marzo se tu sei disponibile perché ne abbiamo veramente tante abbiamo ancora tutto il materiale che c'era arrivato che è pronto lì ma il tempo è tiranno quando mi piace dire questa cosa che dicono i grandi conduttori televisivi e lo dicono tutti ma tu sei un grande conduttore televisivo ma grazie ti ringrazio un uomo di profonda cultura ma guarda io ti ringrazio ho apprezzato molto il tuo testo veramente tanto ti ringrazio ma magari ne parliamo benissimo molto volentieri a questo punto grazie Roberto a questo punto gli esiti del sondaggio velocemente abbiamo 25% prosa 75% poesia oggi abbiamo lanciato il sondaggio tra prosa e poesia ringraziamo Sonia, Beatrice Giovanni Maria e Andrea che ci seguono da casa e che ci mandano messaggi e segnali di presenza facciamo l'appello ai musicisti di mandarci il loro video adesso ne vedremo uno ringraziamo Tiziano Donzelli che ci ha prestato tutto questo materiale per allestire il nostro studio oltre naturalmente a Gulliver che in parte ha ancora fornito l'arredamento e del resto ne parleremo in futuro poi c'è un saluto per te saluto Roberto Bartolini è sempre un piacere ascoltarla spero di rivederla a casa Rossini Lucia Lucia grazie Lucia ringraziamo Lucia e con questo bel messaggio ringraziamo appunto Lucia e tutti quelli che ci stanno seguendo e io ringrazio Roberto in particolare e adesso vediamo uno dei video che abbiamo deciso di proporre sono artisti pesaresi lui si chiama Leonardo Balducci ma in arte è Mardoc Booming con Gianluca Paradiso il video è War Love ci vediamo subito dopo con Raffaella Manieri ricordo l'amore l'amore cura la vita riempendoti il vuoto finché non vedi l'amore sotto forma di odio io non trovo il mio modo sto nella prigione non trovo il coraggio delle mie parole l'amore non trovo il coraggio I turn around to the village We start by the river Abba, gli illusioni avevo gli occhi coperti L'acido in pancia, una manciata di vermi Mi innamoravo dell'idea di sentirmi amato Ma io che non amavo Ero come Amiango tante volte Volevo dirti da me, non l'ho fatto Resto sempre quella parte che non mi tiene calma Hai un volto nuovo ogni volta che ti guardo Ho un grande volto ogni notte in cui riparto Pengevo, cercavo, il tumore è brevito Non ci siamo capiti, non mi sono capito Dimmi cosa è capitato alla fine del capitolo Che noi siamo alla fine del libro Dimmi cosa è capitato alla fine del libro Nothing living, oh Nothing living, oh RUn Accum Sword Women run to the road Oh yeah Tears run to the village Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, noi oggi con te parleremo della tua attività attuale. È molto attuale. con Vigor Senigallia, Torino, Bardolino Verona, Torres, Bayern Monaco, tanto per così qualcuno si distrasse, Brescia, Ravenna, Milan Milan, insomma abbiamo fatto un bel percorsone, poi ci sono anche ovviamente l'esordio nazionale minore nel 2003, nel 2007 l'esordio nazionale quella vera, 65 presenze, 10 gol, che da difensore mi sembra abbastanza rilevante, direi, 7 scudetti, uno col Bardolino, 4 con la Torres, 2 col Monaco, col Bayern di Monaco, una Coppa Italia con la Torres, 6 Supercoppa Italia, una col Bardolino, 4 con la Torres, uno col Brescia, basta insomma, basta, adesso insomma in qualche modo avete capito chi è seduta nel nostro salotto oggi a Casa Rossini, ma perché ti abbiamo chiamato qui, visto che poi tra l'altro appunto l'ultimo dato del 2020 e se ho capito bene non giochi più? No. Appunto, perché ti abbiamo chiamato? Per ricordare il tempo passato? Per fare una elegia delle vecchie glorie? Direi proprio di no, perché Raffaella Manieri è una che si è messa ad impegno per, visto che l'ha vissuta la storia un po' del cambiamento del calcio femminile, adesso per condurla, per dirigerla, in che modo? Allora io, come hai detto a te, ho fatto un percorso abbastanza ampio, quindi diciamo che ero costretta ad andare dove il calcio femminile potesse dare un'opportunità, quindi questo è il perché io comunque ho girato tanto. Poi a un certo punto, già da quando ero al Bayern Monaco, insomma, avevo iniziato a stimolare un po' di persone perché avevo fatto capire che c'era una realtà importante, che magari in Italia ancora non era visibile, ma che all'estero era completamente professionista. E da lì abbiamo capito che stavano iniziando ad arrivare nel settore dove sono nata, quindi all'UPR Zilla, in questo paesino sperduto tra le colline pesaresi, iniziavano ad arrivare delle bambine sparse di età. Quindi da qui, insieme ai dirigenti, insomma anche mio babbo, perché la fortuna vuole che mio babbo è il presidente della società, avendo avuto a me, quindi era stimolato e ci ha aiutato ad aprire anche al femminile. Quindi iniziano ad arrivare queste bambine e iniziavamo a notare un po' di differenze. Quindi abbiamo detto c'è un problema, perché la bambina comunque arrivava anche più tardi del bambino, quindi anche a livello metodologico c'erano delle problematiche di un percorso di una bambina. C'era una lacuna da recuperare, questa è la prima fase praticamente. Da qui abbiamo detto ok, allora proviamo insieme anche al responsabile, che ringrazio e saluto Francesco Marcucci, a trovare questo metodo, questa soluzione per poterle includere in un percorso maschile. Quindi iniziamo questo percorso di mixed team. Quindi a oggi ci ritroviamo tutte le squadre del settore giovanile con rose miste. Quindi Arzilla si presenta a giocare i campionati corose miste. E devo dire che è stato un percorso emozionante, lungo, intenso e che ci ha dato tanti frutti. A oggi noi abbiamo dato già 15 ragazze al nostro territorio e non solo. Quindi abbiamo anche il Cesena che continua sempre a guardarci, insomma anche a collaborare. Ma tutte le altre società comunque del territorio hanno percepito questa diversità delle bambine che uscivano dal da questo percorso, dal vivaio nostro. Quindi abbiamo iniziato a capire che era un qualcosa che funzionava e da lì abbiamo aperto l'Academy proprio per dare la possibilità a tutte le squadre che volessero intraprendere. Ti fermo perché voglio fare un chiarimento per chi è a casa che magari potrebbe non essere informatissimo, non lo ero neanche io fino a prima di documentarmi. Ricordiamo che quando tu hai cominciato a giocare esistevano società maschili e società diverse femminili. Praticamente non solo comunque non c'era la possibilità come c'è adesso di giocare insieme o comunque solo nella prima fase della vita i bambini giocavano tutti insieme senza distinzione, ma proprio la percezione da parte del mondo calcistico era che fossero due mondi diversi. Poi piano piano arrivando a Monaco per esempio ti sei accorto che il Monaco è lo stesso, cioè il Bayern di Monaco è la stessa società che noi conosciamo in ambito maschile, titolata eccetera. E allora lì si è cominciato a aprire uno spiraglio. A oggi questo spiraglio è diventato realtà ma non in tutta Italia. Ci sono alcune società importanti, mi dicevi Torino, c'è la Juventus, c'è il Milan, c'è l'Inter, Roma, la Fiorentina, il Verona. Cominciano ad esserci società diciamo di calcio, quelle che noi siamo abituati a conoscere come le squadre più importanti d'Italia che a questo punto con la stessa struttura societaria includono anche un percorso di calcio femminile. In altre città è più complicato perché in altre città invece questo vivaio non c'è, questa attenzione non c'è, questa uniformità diciamo di impostazione e di gestione non c'è. Verso quelle città si rivolge l'Academy. Sì, bravissimo. Questo è, ho indagato bene? Esatto, bravissimo. Perfetto. Tutto ciò che non è grande città o come detto tu dove non c'è la possibilità di fare calcio femminile, la ragazzina per forza deve iniziare con un percorso maschile. Questo comporta che se una ragazzina era come me, è come me e lo auguro a tutte e non avevo problemi. Quindi io venivo inclusa perché ero brava, anzi ero anche brava dei maschi, quindi mi vedevano come una di loro, non mi mettevano da parte. Invece accade il contrario con quelle che sono magari meno brave e che hanno un arrivo tardivo anche nella società, quindi nel settore giovanile e quindi vengono magari messe da parte involontariamente perché i bambini soprattutto diciamo nel calcio, la differenza è che nel gioco maschile piuttosto che lo è femminile, quando cadi ti devi rialzare perché se no il bambino vuole continuare a giocare e ti devi muovere, non è che puoi stare lì a pensare. Le bambine invece quando giocano sai la differenza è che se una si fa male e cade, sono tutte pronte lì a andare a vedere, a consolarla. Questo piccolo esempio che vi ho portato, pensate a una bambina che comunque magari arriva dal percorso con i giochi con le bambine, si trova in un contesto maschile e non è che il bambino la va ad aiutare, se la deve cavare. Per fare la battuta. Dopo però i calciatori quando arrivano in Serie A invece la fanno drammatica come le bambine a quel punto quando cadono si rotolano, stanno stesi per terra perché lì però vogliono che gli venga assegnata la penalizzazione. Sì, è la nostra etichetta, anche a livello mondiale. Era una battuta naturalmente, era solo per scherzarti un po'. No, no, ma è vero, ce lo riconoscono, quindi si fa fatica anche a livello arbitrare a credere o non credere a un italiano o un italiano in questo caso. Ah ecco, perfetto. Sì, sì, è perfetto, c'è il zicato. Ci ho preso, ci ho preso. E voi come siete organizzati? Cioè praticamente voi vi, come Academy, vi rivolgete, vi proponete alle società sportive per portare quello che è la vostra esperienza delle Pink Arzilla che ha funzionato e sta funzionando perché Pink Arzilla è una scuola calcio femminile che comunque produce e mi dicevi anche inserisce calciatrici e insomma funziona anche proprio come vivaio appunto e voi portate questa vostra esperienza dentro le società con le quali stringete degli accordi. E materialmente poi cosa succede a quel punto? Materialmente creiamo un percorso formativo, quindi riportiamo esattamente quello che abbiamo vissuto noi perché comunque andremo a riscontrare le stesse problematiche e quindi si parte con un percorso formativo dove si va a cercare di sensibilizzare tutto ciò che è il contesto extra campo, cioè genitori, allenatori, dirigenti, staff, tutto ciò che è al di fuori perché la problematica vera è tutto ciò che è al di fuori perché alla fine la bambina che decide di arrivare a giocare vuol giocare. Ha già superato tantissimi ostacoli quindi se te la trovi in campo è perché ce l'ha fatta e quando entrai in campo vedrai che darà tutto. Quindi noi cerchiamo di far conoscere la realtà del calcio femminile che oggi non è conosciuta soprattutto in alcune città come hai detto te e quindi cerchiamo attraverso formazione sia di corsi sia in campo di trasportare, di condividere quello che è stato il nostro percorso. Quindi ci saranno dei momenti in campo, dei momenti in aula e cerchiamo di far capire soprattutto anche ai genitori che c'è un'opportunità importante anche per la bambina oggi e non è più come ero bambina io che i miei genitori avevano paura. Ma non tanto paura perché loro sono stata fortunata, mi hanno sempre fatto fare quello che volevo fare e questa è stata anche la mia forza in un contesto dove tutti mi dicevano che non potevano. Quindi avere il genitore dato a parte è stato fondamentale. L'unica cosa è che erano impotenti e quindi questa impotenza di non trovare soluzioni. Per esempio io nel periodo dai 12, il periodo mio dei 13 anni, io sono dovuta stare ferma perché non c'era, non potevo più giocare con i ragazzi ma non c'era neanche una squadra femminile. Quindi io ho avuto quei 13 anni. 13 anni è il momento, se vogliamo, me lo immagino con un momento di grande svolta importante. Sì ma anche a livello proprio della crescita del bambino e della bambina, inizia ad avere quella fase critica che dai contro a tutti e soprattutto ai genitori. Quindi se ti viene detto non puoi giocare, capisci? Io penso che mi vedevano che ero triste. Certo, certo. Poi mio papà e mia mamma hanno saputo che c'era questa realtà a Senigallia, fortunatamente. Quindi io però a 14 anni facevo avanti e indietro da Pesaro, da Santa Medardzilla a Senigallia. Quindi facevo orari assurdi, li facevo fare anche miei genitori. Quindi comunque una bambina di 14 anni poi deve andare a scuola il giorno dopo, a 50 chilometri alla sera, tornavo a mezzanotte, al mattino mi risvegliavo. Senti mi viene una domanda, dal 91 oggi, hai parlato un paio di volte dei genitori. Dal 91 oggi i genitori, come dicevi prima, nel 91 magari avevano paura, oggi non ce l'hanno più. Ma non credo che sia solo l'unica differenza che c'è nel mondo del rapporto tra genitori e società questa. Mi sa che c'è anche da gestire tutto un po' di ingerenze, di aspettative, di pretese. Come va? Allora, come ti dicevo prima, va bene nel momento in cui ci conoscono. Quindi riescono a capire la professionalità con cui noi ci presentiamo e vedono comunque le basi forti su cui si fonda quello che io sto cercando di portare avanti. Io, come ti ho detto a te, ho collegamenti con tutta Italia, quindi nel femminile riesco comunque a poter, il mio obiettivo è cercare di far diventare delle calciatrici, delle atlete importanti. Quindi l'obiettivo sarebbe di andare a giocare nei grandi club. Quello che cerco di fare io è proprio permettergli di trasferire questo ai genitori, che forse non riescono, anche le persone che sono al di fuori. Questa opportunità che esiste di sopperire a questo gap che abbiamo, magari in un territorio come il nostro, dove le ragazze non riescono a fare lo stesso percorso di ragazze a pari età, ma che entrano già in un contesto di settore giovanile, Juventus, Milan, Inter, Roma, Sassuolo. Quindi lì lavorano già in modo qualitativo, professionistico e professionale. Quindi, come hai detto te, io cerco di far vedere quello. Io ti faccio gli esempi. Cioè a me è capitato, l'Arzilla, c'è capitato, dei genitori che non erano d'accordo e che hanno detto che si perdevano le partite perché c'erano le bambine in campo. Quindi questo è l'esempio che ti dico dove andiamo a parare, andiamo a cercare di togliere tutti questi paletti perché oggi come oggi nel settore giovanile si sta lottando anche con la federazione a cambiare questa idea che nel settore giovanile si debba vincere. Non si deve vincere, si deve giocare, far divertirli e fargli capire chi sono. Perché, come diciamo sempre noi, noi abbiamo solo una certezza che un domani una bambina diventare una donna e un domani un bambino diventare un uomo. Questa è l'unica certezza che noi abbiamo. Poi noi dobbiamo cercare di farli conoscere, di insegnargli queste famose capacità motori che si sente parlare tanto ma che poi nella pratica vedi poco perché ti trovi sempre in un contesto dove il bambino torna a casa e il genitore ha vinto. Bisognerebbe mettere un divieto su quella parola perché negli altri settori giovanili, anche all'estero, la domanda è ti sei divertito? Sei divertita? Certo. Quella è la risposta. Quindi bisogna togliere un po' questa cosa. In questo sei stata pioniera, sei ancora pioniera? Cominciano a nascere anche altre realtà come la tua in Italia? Allora io sono una pioniera. No, come accademia? Allora io l'ho fatto precocemente. Questo ringrazio anche mio fratello Riccardo Manieri che ha... Riccardo che salutiamo. Riccardo che ci sta guardando. Che conosco bene e che saluto colgo l'occasione perché è un po' che non ci vediamo ma così almeno ci vediamo dalla televisione. Lui ha il lato imprenditoriale. Io comunque avevo una mentalità da calciatrice, da sportiva, quindi lui mi ha fatto capire che quello che avevo fatto, perché diciamo lui dice sempre che ho poca autostima, cioè non riesco mai a darmi forza su quello che ho fatto, ma mi reputo una persona umile come tante le altre. Quindi non è che lo metto di fronte, no. è una cosa che ho fatto, l'ho fatta e... Beh, l'elenco l'abbiamo fatto. Sì, esatto. Non c'è niente da dire. E quindi Ricci mi ha detto, Raffi, è importante che tu possa trasferire tutto quello che tu hai fatto a tante altre bambine, quindi creiamo questa Academy. E quindi no, è stata la prima perché è nata nel 2017, mi hanno fatto questa sorpresa nel renderla attiva. Quindi al giorno del mio compleanno mi fanno questa sorpresa. Benvenuta. Bellissimo, alla tua Academy. Alla tua Academy. Perfetto, perfetto. Senti, ci lasciamo con una domanda. La domanda è dove vuole arrivare, anzi dove arriverà il calcio femminile? Il calcio femminile diventerà, purtroppo e per fortuna, perché c'è sempre il pro e contro, diventerà lo sport, il business del futuro. Quindi ci sono tantissimi investimenti che stanno facendo FIFA, WIFI e FGC. Tu ripeto, all'estero è una realtà, si sta investendo tanto, quindi tutto ciò che abbiamo vissuto col maschile arriverà anche col femminile. Quindi stare i pieni. Per cui essere lì, nel posto giusto, al momento giusto è una delle cose a cui aspiri e nella quale diciamo che sei già ben piazzata. Perché grazie appunto alla collaborazione con la tua famiglia, che ti ha preparato tutto quello che serviva, insomma stai, dopo averlo, in qualche modo, dopo aver partecipato al cambiamento, perché dall'inizio a oggi hai partecipato, adesso lo conduci un po' questo cambiamento. E questo è un bel obiettivo. Poi c'è stato un bel risultato delle ragazze al mondiale, quindi quello ha aiutato tantissimo. Quello va sempre, esatto. L'effetto c'è sempre anche nel grande pubblico, perché poi c'è un pubblico di interessati e c'è un pubblico generalista, quello che magari conosce i grandi nomi, che diventa appassionato di palanuoto quando il settebello vince, diventa appassionato di sci quando c'è qualche bella medaglia, di moto quando Valentino magari riesce a zeccarare. Insomma, quel pubblico lì però non va trascurato, perché poi è il pubblico che fa effetto agli sponsor e a quelli che decidono di metterci dentro un po' di soldi in questa avventura. Bene, Raffaella, purtroppo, come dico sempre, il tempo è tirannissimo, però ne abbiamo dette tante di cose. Io spero che da casa si siano appassionati a questa tua avventura. Se avete delle bambine interessate a giocare a calcio, sappiate che a Pesaro, a Santa Maria dell'Arzilla, ma è vicinissimo, esiste la Pink Arzilla e esiste l'Academy invece per quanto riguarda tutto il resto, per cui tutti quelli che vivono nel mondo del calcio e vogliono informarsi e interessarsi un po' di più, vanno sul sito www.rafaellamanieri.it e da lì poi accedono a tutto. Tra l'altro è un sito molto bello, ci sono dei filmati, ci sono delle cose anche divertenti, altre ne verranno sicuramente. Grazie, è stata con noi Raffaella Manieri, responsabile Raffa Manieri Academy, con una cisola, Roberto Bartolini, prima di lei ideatore dell'assessment grafologico, Fabio Masini, direttore del Conservatore Rossini, per questa puntata di oggi, mercoledì 24 febbraio, noi abbiamo nient'altro da aggiungere, no, siamo anche un po' in ritardo, per cui ancora ringraziando Raffaella che è qui con noi e che conclude con noi questa puntata, vi diamo appuntamento per le dirette a venerdì prossimo e per tutte le repliche invece agli orari consueti che conoscete già da Casa Rossini e da Rossini TV, per ora è tutto, ma restate sempre con i nostri programmi ai quali siete così tanto e ben affezionati. Grazie, buona giornata a tutti, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Grazie a tutti.